Anticipazioni Beautiful, mercoledì 5 agosto 2020. Hoppe senza parole, emozionata dal dolcissimo gesto di Douglas. Thomas prende la parola e nega ogni suo coinvolgimento. Precisa che suo figlio è un bambino molto sveglio e attento e ha colto il momento migliore per chiederle di diventare la sua mamma. Brooke è con Liam e parla dell'enorme preoccupazione che l'ha stata anagliando da quando Thomas non fa altro che stare addosso ad Hoppe. Liam ammette di avere le sue stesse preoccupazioni e la Logan gli è rimprovera di essere finito a letto con Steffi. Poteva evitarlo. Adesso non ha fatto altro che avvicinare ancora di più Thomas ad Hoppe. A un tratto il bambino si unisce a entrambi e dice felice di aver chiesto a Hoppe di diventare sua madre, porgendone l'anello di fidanzamento che le ha comperato Thomas. Brooke e Liam si guardano sbigottichi. Alla Forrester Zoe chiede a Xander di uscire un po', ma lui non se la sente dopo quanto accaduto ad Emma. Il giovane vorrebbe raccontare Hoppe tutta la verità sullo scambio di culle. E non solo, anche consegnare Thomas alla giustizia. Pertanto propone alla sua amata di liberarsi almeno di quest'ultimo peso e di recarsi a visionare l'auto del Forrester per vedere se ci sono segni di speronamento. Subito dopo si reca da Charlie, al quale chiede di visionare i filmati della sicurezza. Ed ecco che Xander ha la possibilità di vedere alcune importanti immagini relative al giorno in cui si è consumato l'omicidio. Vede chiaramente la barber correre verso la sua auto, seguita da Thomas a tutta velocità. La Vant non ha dubbi, il Forrester è un assassino a piede libero. Grazie a tutti.